Saranno 10 siti coinvolti nella rassegna Il Sorriso degli Dei promossa dal Parco archeologico di Tindari. L'evento è giunto alla seconda edizione a cura del direttore artistico Anna Ricciardi, in collaborazione con le Proloco di Patti, Acquedolce e Gioiosa Marea e varie associazioni. Fino al 31 agosto installazioni ed esposizioni coinvolgeranno anche l'Antiquarium di Tindari, la Villa Romana di Pattimarina, di Capodorlando, Acquedolce e Alesa. Il 7 agosto alla Gorà del sito archeologico di Tusa andrà in scena Discolos di Menandro, mentre l'1 settembre il sito ospiterà Donne di Troia. L'8 agosto la rassegna si sposterà a Tripi, dove il sito a Bacainon farà da cornice a Discolos di Menandro, per poi ospitare il 20 agosto Catabasis, viaggio negli abissi dell'anima da Omero a Virgilio e Antigone di Sofocle. Ancora Tripi il 30 agosto con Donne di Troia, la Villa Romana di San Biagio di Termevigliatore sarà protagonista l'11 agosto con autodifesa di Ismene, elogio della sopravvivenza, mentre la grotta di San Teodoro di Acquedolce ospiterà il 24 agosto Teras Tiresia e il 4 settembre Polifemo Innamorato l'Idilio di Teocrito. Il 31 agosto c'è Sisili Labba, gioiosa guardia dal sitolo Ellas Gioiosa, con una ricostruzione in 3D dell'antica città greco-sicula ed opere di Land Art. Poi andrà in scena Estia, la figlia del tempo, tra gli appuntamenti più attesi, Tindaris Augustea, evento teatrale itinerante in programma all'area archeologica di Tindari il 18 agosto. Aprirà la sezione Special Event in programma a Tindari, il coro lirico siciliano con omaggio a Morricone il 2 agosto e poi la lirica con la Turandò l'11 agosto, mentre il 13 agosto omaggio Modugno siciliano. Il 16 agosto Cinema e Opera presenterà l'Orchestra Plettro Città di Taormina, con musiche dal Nabucco, La Traviata, Cavalleria Rusticana, Carmene e Norma. Il 26 agosto chiuderà la sezione Il Coro Lirico con Battiato Spirituale. Tra le novità della rassegna, le visite guidate ed escursioni tra terra e mare, sulle tracce della Via Consolare Valeria e dei tracciati di marcia della guerra tra Pompeo e Ottaviano. In programma anche gli incontri di letteratura a parole alate. Il 3 agosto alla Villa Romana di Pattimarina un call case per il commissario Baleni di Daniela Marsotto e il 26 agosto alla Basilica di Tindari una conversazione impossibile. Luigi Pirandello e Leonardo Sciascia di Matteo Collura.